Namaste io sono laista Brave e bentornati ad un altro episodio delle sabbie del tempo su Prince of Persia vediamo un po' di continuare la nostra esplorazione se non sbaglio dobbiamo riusciamo a ritornare indietro da qua no quindi abbiamo già finito col serraglio quindi andiamocene giù cominciamo a scendere se ce la facciamo scendere da qua andiamo giù di qua no non devo fare questa cosa ma devo mettere via la spada devi girarti da questa parte saltare e saltare e andare qua qua c'è una leva che dà la scala non so da dove salti fuori con la scala ma prego e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare noi e fara insieme mi riesci a aprire questa porta c'è una fessura no non c'è una fessura per te è un po' che sei venuta qua sopra forse perché io possa scendere no siamo ritornati nella prima zona e adesso ah le abbiamo dato la possibilità di andare lì e devo premere un altro bottone sembrerebbe ma da qua non torno indietro quindi dove vado scusa se premo questo bottone succede di nuovo no quella porta non si apre ok quindi è qualcosa che c'entra con questa roba qua sotto forse premendo questo tasto no devo fare di nuovo il giro bella domanda mi sa che devo fare di nuovo il giro si mi sa che devo fare di nuovo il giro perché in cima al serraglio c'era un bottone quindi andiamo di nuovo quindi hop hop però adesso almeno c'è fara di sopra quindi in teoria dovrebbe riuscire ad entrare andiamo su di nuovo ce li facciamo questo pezzettino tanto non è neanche tanto difficile perfetto andiamo di qua saliamo dove stai andando saliamo sulla scala gira e su adesso ci muoviamo lungo la sbarra e dovremmo riuscire a uscire un'altra volta a rivedere le stelle e qua c'è il bottone da prendere cioè c'è la leva da tirare più che altro si è aperto è dietro di te potrebbe uscire ok quindi di qua saltiamo di là ok un po' corto scendiamo di qua scendiamo di qua scendiamo di qua e va tranquilla gira e salta e salta con permesso se hai creduto alla mia storia fino ad ora forse mi crederai anche quando ti dirò che avanzando tra le rovine illuminate dalla luna cominciai a sentirmi stranamente attratto dalla ragazza al mio fianco la mente mi diceva di diffidare di lei dato che aveva buoni motivi per odiarmi ma si era dimostrata una compagna reale e lo confesso ero grato per la compagnia a lei che era umana come me eh già quando si è quando siamo in due e basta allora intanto saltiamo qua sopra c'era qualcosa di interessante no andiamo giù andiamo di fare il giro noi allora nope allora dove andiamo avrei dovuto porre attenzione alla visione ma mi sono dimenticato c'è qualcosa di interessante qua lì c'è una deve esserci un buco da 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 di passaggio vediamo dov'è non è qua sotto non vedo altre altre cose quindi proviamo a tornare indietro la telecamera fa un po' di scherzi qua cosa perché solo tiro fuori l'arma abbiamo la visuale terza persona anche per poterci muovere un'altra telecamera fondamentalmente che ci aiuta non l'ho mai usata finora ma l'ho usata sempre pochissimo ma aiuta a orientarsi un pochino meglio magari in zone come questa però non vedo ah ecco dov'è infatti mi ha aiutato in questo caso ah non ci arriviamo perché devo arrivarci dalla sopra ecco bisogna saltare qua e fare così e saltare da qua così possiamo partire qua dentro arrivare qua sopra prenderci questo ok abbiamo ricaricato le nostre cose e spostando questa cassa in teoria dovrebbe esserci lo spazio per lei magnifico così lei viene di qua e preme il bottone c'è il bottone mi apre la porta di qua sì non lo so potresti provare a strisciare dentro un passaggio questi mi sa che si attivano da qualcosa qua c'è una leva da tirare eh sì che c'è una leva da tirare c'è questa da tirare e adesso abbiamo un po' di ostacoli ok allora andiamo di qua non posso passare di là furbo ok torriamo indietro vediamo di rifare questo pezzettino vai ah ho sbagliato devo fare un salto normale magari dritto ok adesso abbiamo fatto dritto gira di qua torniamo indietro che magari andandoci diretti hoppa vabbè mi sono fatto malissimo ma ce l'ho fatta è come se avessi già vissuto questo momento ce l'hai fatta è come se avessi già vissuto questo momento e possiamo andare di qua allora attenzione permesso di qua abbiamo un punto di salvataggio quindi dobbiamo salire salire su dei pali arrivare fino là in fondo salire sulle sporgenze in cima oltre un po' di ponti scendere giù di qua e andare di là ok più o meno credo di aver capito la prossima volta riprenderò da qui la prossima volta riprenderò da qua allora andiamo andiamo di qua non va bene di là non va bene di là non va bene e dove vado di qua ok moriamo così come faccio ah devo arrivare a quello per arrivarci devo usare il con permesso questo e arrampicarci di qua su questi alberi da qua possiamo andare in fondo di qua e abbiamo un po' di corvi muori lasciatemi stare corvacci vediamo di scendere da qua oh ai 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 non è così che andrà caduto nell'oblio allora ritorniamo dalla nostra patatona patatona ciao patatona posso anche usare questo metodo poco convenzionale per salire infatti da qua mi tocca fare sta cosa anche se sembrerebbe non fattibile au qua c'è un po' un problema di cioè non riesco a capire quanto grandi sono rispetto a me quanto vicini sono rispetto a me soprattutto e mi beccano lo stesso cioè non c'è possibilità di pararsi meno che non faccia tipo una cosa del genere però mi uccido da solo se sbaglio quindi vabbè rifacciamo patatona aspetterò qui scusa ok uno l'abbiamo eliminato è bello che non riesco a beccarlo ok adesso ce l'ho fatta miracolosamente peccato che non abbia qualcosa per attaccare da lontano a meno che fara non si metta a usare le sue cacchio di frecce però va bene lo stesso intanto dobbiamo fare così dobbiamo saltare saltare di là scendere da qua attenzione e ci prendiamo questo adesso possiamo attenzione salire qua e girare a prendere questa girare a prendere questa e girare a prendere questa verrà ucciso dai corvi ok ce l'ho fatta colpirlo andiamo di scappare via attenzione al doppio salto no corvo no corvo no corvo corvo quello che è in realtà è enorme come cosa ok ho fatto un giro si è aperta quella porta e adesso e andiamo una parola possiamo andare di qua direttamente hop anche qua c'è un piccolo aiuto visivo no di qua niente non posso cos'è non ce la faccio più da qua dobbiamo tornare sulla su questa girare così sono nella direzione giusta si e saltiamo di là passando qua dentro dovrebbe permettermi di finire giusto si ciao ciao scarafoni no scarabèi 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 mi sta uccidendo ma va bene abbiamo pochissimissima energia quindi speriamo di trovare dell'acqua acqua 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 eccola ok è arrivata altra gente tenta non beccarmi a me a far tra l'altro la mia super mossa non so esattamente come farla ancora probabilmente l'ha spiegata on screen ma non ho letto ma vedremo qual palazzo sembra ancora intero stavo per dire i bagni i bagni e c'è un altro tipo di nemico ok cominciamo hop non riesco a saltarne neanche uno come vedete questi si parano parecchio questo abbiamo bisogno di lei andiamo di aiuto ok fuori uno fuori due andiamo di salvare fara 800 colpi attacca possiamo bere che o non ho più energia ah c'è ancora qualcuno questa cosa si può fare ok perfetto se riesco a mettere il timer giusto ah però me la parano saltiamo di qua saltiamo di là mancatissimo quindi uno due e tre c'è ancora qualcuno va benissimo vorrei che tanto facciamo fuori lei subito fuori lui facciamo fuori anche l'odalisca se lo facciamo attacca continuo a legnare a legnare gente ma continuano a essere se non attacco sono andato per terra da solo perché fara sta tirando un po' di frecce finalmente ok è una bel pugnalata nel sedere direi che ci sta ok finalmente abbiamo finito questo combattimento abbastanza lungo e c'è un altro punto di salvataggio dobbiamo di caricarci anche di energia dobbiamo andare su di qua girarci attorno possiamo bere da qua otteniamo primer così siamo posto e vediamo un po' che cosa succederà uh bella questa cosa possiamo fare anche quella la prossima volta riprenderò da qui cioè saltare sul muro e poi saltare di nuovo possiamo farlo già ok decisamente questa non è la cosa giusta però scusate se io faccio ah no devo essere in combattimento vabbè da che parte continuiamo di qua ok questo apre quella per arrivarci però bisogna fare un po' il giro ah ok giusto devo saltarla ok più o meno dobbiamo far così qua dobbiamo saltare di là qua dobbiamo oscillare da una parte all'altra no attenzione no attenzione tocca tornare indietro adesso ok allora così così devo fare un po' più veloce mente non ho saltato da troppo in basso se lei se lei stesse sull'interruttore non sarebbe male però o almeno premesse l'interruttore nel momento in cui glielo dico ma non è così furba oh perché non l'ha premuto va bene scusa perché non l'ha premuto adesso ci riproviamo ogni tanto si mette a correre a caso sui mure ed è il motivo principale per cui esistono le sabbie del tempo per riavvolgere con permesso andiamo di là attenzione allora 3 2 1 via no dobbiamo aspettare vai scendiamo giù andiamo di là salta vai di là scendi giù di qua e di là di qua e di là di qua e di là no e adesso perché non premio l'interruttore ok c'è qualcosa che non funziona perché non funziona perché non funziona più forse c'è qualcos'altro da prendere a questo punto ah no giusto 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 devo spostare quello furbo guarda c'era anche nella visione vado a vedere dove fa au facciamo il giro di qua e di là di qua e di là di qua fastidio quando succede questo e no non è successo neanche questo vabbè riproveremo allora nel prossimo episodio di questo let's play prince of perso alle sabbia in tempo grazie ancora per la visione io sono waste brave namaste e free ciao ciao